Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sullo sfondo alle mie spalle il vecchio incasato di Grotta Mare, al di sotto passa la oramai famigerata Galleria Castello dell'A14, teatro purtroppo di numerosi incidenti tragici, l'ultimo qualche giorno fa ha distrutto una famiglia, i cittadini della riviera del Palme si interrogano su questo tratto autostadale meridionale del Piceno, abbiamo dato la parola ai primi cittadini di Grotta Mare, Enrico Piergalini di Sammetto, Antonio Spazzafumo. Come sapete alcune settimane fa c'è stato un incontro in prefettura, dalla quale erano emersi alcuni dispositivi che pensavamo potessero essere efficaci, il prefetto ha dato indicazione di migliorare la sicurezza attraverso dei lampeggianti, di ridurre il limite di velocità ulteriormente tra Galleria e Galleria, tutti interventi che dopo quello che è accaduto l'altro ieri credo vadano potenziati e rivisti, che è notizia di ieri, come tutti sanno, che il Ministero delle Infrastrutture ha convocato un tavolo permanente con i Presidenti delle Regioni all'interno appunto del Ministero sul tema 14. Finalmente, dico io, perché già da molto tempo dicevo che questa situazione di emergenza non è più un'emergenza locale, né può essere gestita dai sindaci o su un tavolo della Prefettura. La 14 è un'infrastruttura statale del Ministero e soltanto il Ministero e la Regione hanno la forza, nei confronti società autostrade, di poter far capire loro che è vero che i lavori sono necessari, è vero che i lavori vanno completati, ma in questo periodo che ci separa da oggi al completamento dei lavori occorre mettere in atto dei dispositivi di sicurezza maggiori. Io personalmente avevo scritto alla società autostrade, per conoscenza anche il Prefetto, appunto per avere un incontro e cercare di capire un po' quello che stava succedendo proprio nel tratto autostradale del nostro territorio. Quindi abbiamo avuto un incontro in Prefettura dove sia io che il sindaco di Grotta a Mare e di Cupra Marittima abbiamo chiesto un maggiore sforzo per avere una sicurezza, più sicurezza sul tratto autostradale, visto che parliamo di un tratto molto critico. C'è stata da parte della società autostrade la garanzia di apportare ulteriori modifiche sul piano sicurezza di quel tratto lì.